Che un progressivo innalzamento delle quote del mare si registrerà nei prossimi decenni è abbastanza certo. Che sia di 10, 50 o anche di 80 centimetri per ferrare la sua provincia la questione si potrà comunque gestire perché già oggi il 50% della provincia estense è sotto il livello medio del mare. Nel comune di Iolanda si arriva sino oltre 4 metri. A regimare le acque il Consorzio di Bonifica che da decenni gestisce gli impianti che difendono i terreni dall'invasione del mare. Un sistema che però dovrà essere adeguato. Certamente vanno incrementate le difese a mare perché oggi non abbiamo l'acqua all'interno della provincia perché la Ciaioli è un'algine di prima difesa e anche la Romea. L'altro elemento importante e qui entra in gioco il tema del Po e della regimazione perché è chiaro che un innalzamento del mare sul Po e sul volano, su tutte le foci, cosa comporta? Una maggiore pressione, una maggiore entrata del mare dentro il fiume. Quindi dovremmo da una parte attivare i nostri impianti in funzione di scolo in modo più continuo e dall'altra dobbiamo immettere dei volumi irrigui ancora più importanti. Quindi tutto questo sistema va adeguato. Per difendere la provincia estense dall'inalzamento del mare si dovrà soprattutto intervenire nelle zone costiere. Intendiamoci, oggi abbiamo degli algini molto importanti a livello del Po e quindi il tema è difenderci dal mare, dall'incremento di quota del mare. Quindi il tema degli algini riguarda soprattutto la fascia costiera. Già oggi da sempre ci sono dei problemi di grande erosione e di difficoltà, quindi questa situazione va stabilizzata. D'altra parte, voglio dire, l'Olanda si confronta con l'oceano Atlantico e da sempre hanno un sistema di barriere mobili, di dighe imponente e sono comunque uno dei paesi europei più sviluppati. Quindi problemi tecnici non ce ne sono. Ci vuole la volontà politica e i finanziamenti che sono ovviamente pubblici, ma fortemente statali, perché ovviamente la linea costiera non è solo della regione Emilia Romagna, ma è di questo paese, e poi le problematiche costiere saranno diffuse. Noi dobbiamo adeguare delle strutture che già abbiamo, salvo il tema delle foci che vanno gestite in un modo probabilmente più efficace, nel senso che ovviamente in presenza di mareggiate o di marea importante, oggi per esempio il porto di Goro ha già un sistema di chiuse per difenderlo. Quindi dovremmo allargare questo tipo di impostazioni in presenza di mareggiate importante poter chiudere le foci, in presenza di maree giuste poterle aprire per scaricare e quant'altro. E' importante comunque che il Po, torno a dire, sia regimato, perché è un elemento fondamentale per contrastare il sale.